Luciana Litizzetto! Ma subito quei figoni! Grazie, grazie! Grazie! Troppa grazia! Ma che poi che figata che sono qua! Tutti questi, non so se sono in grado, eh, tutti questi mostri della televisione, Gerry che è praticamente lo spirito guida di mia madre, cioè... Mia mamma non vi... se c'è Gerry Scotti della televisione, io la chiamo, mi dice no, aspetta che c'è Gerry, come se fosse suo figlio, capito? Guarda, Maria che è la mostra del cuore, Sabrina che è la gnocca più gnocca d'Italia, i giudicioni... Oh! Eh, no! E' Rudy, vabbè! E' Rudy che non si capisce perché tu sei qui! Non lo so, non lo so neanche io! Eh, infatti noi dobbiamo smezzarci quello che rimane! Sì, sì! No, sono venuta al posto di Belen! Sì! Vediamo che cosa ti andiamo fuori! Sì!